Per il Campobasso si è chiusa una settimana di grosso lavoro, se ne sta aprendo un'altra non meno impegnativa su vari fronti. In primis quello dell'organico Rosso Blu che dovrebbe far registrare altre firme, oltre alla sequenza dei giocatori ormai ex notaresco che seguiranno Cudini e De Angelis al Campobasso. La società dovrebbe piazzare dei colpi importanti nei reparti più rilevanti, il riferimento va all'attacco dove rimangono inalterate le posizioni dei superstiti dalla passata stagione Alessandro e Mosetti. Il reparto va irrobustito con altre tre o quattro pedine, considerata la predilezione di Cudini per il 4-3-3. Ormai ufficialmente è chiuso il rapporto pure con Giacobbe, i due neotecnici starebbero valutando la posizione di Danucci, anche se il ritorno in rosso-blu di Bontà, così come l'acquisto ufficiale di Pizzutelli farebbero pensare ad un nulla di fatto fra il Campobasso e l'ex capitano. La società insegue con forza l'argentino Banegas, lo scorso anno al Francavilla, giocatore dotato di caratteristiche offensive, all'occorrenza capace di rivestire il ruolo di seconda punta. Insomma, con una gestione societaria diversa, sarà un Campobasso nuovo di Zecca, così come era nelle previsioni. La squadra viene affidata ad uno staff marchigiano, sia Cudini che De Angelis sono originari di tale regione, e costruita, almeno sulla carta, secondo le prerogative del girone F. Si sta cercando di mettere insieme un organico muscolare molto fisico, provando ad attingere da quelle formazioni che hanno occupato la parte sinistra della classifica. Vedi Notarisco e Francavilla, ancora manca quel tocco di qualità che potrebbe essere aggiunto nelle prossime ore, ma sembra che si stia creando un mix teoricamente idoneo al girone, privo di giocatori poco abituati ai campi delle province abruzzesi e marchigiane. La società si riserva di indire una conferenza stampa per la presentazione del nuovo staff, probabilmente nell'imminenza dell'inizio dei lavori che si svolgeranno nel capoluogo e che partiranno intorno al 20 prossimo. La società Rosso Blu, fra i vari fronti a cui sta lavorando, non trascura di certo l'aspetto del marketing. È infatti ben visibile ai più uno store dedicato alla vendita dei prodotti Rosso Blu, che è in fase di allestimento e che verrà inaugurato fra non molto. Lo store in questione sta sorgendo nella centralissima Corso Vittorio Emanuele a Campobasso. Da registrare che ieri il presidente Rosso Blu, Nicola Circelli, ha ricevuto a Milano un premio nell'ambito del convegno Sport e Legalità. Un riconoscimento che è stato conferito a Circelli direttamente dall'ex magistrato Giancarlo Caselli. Nel capoluogo Lombardo era presente, oltre al vertice Rosso Blu, anche il direttore generale in carica Filippo Polcino. Se l'Olimpia agnonese attende il risponso a giorni circa la domanda di ripescaggio in serie D, a questo proposito diremo che le possibilità sono buone e che la dirigenza aspetta fiduciosa, non altrettanto si può dire per l'Isernia che, com'è di facile intuizione, ha di fatto rinunciato a riguadagnare la categoria a tavolino. Anzi, l'estate della società Bianco Celeste è stata più calda del previsto. Rimasto di fatto inascoltato l'appello del vicepresidente Piero Biscotti, la società Pentra si avvia verso l'iscrizione in eccellenza per disputare un campionato tranquillo. Una notizia di corridoio che riguarda il girone F di quarta serie. La società della Iesina sarebbe nel mirino della Guardia di Finanza per una maxifrode fiscale di 2 milioni di euro. Le indagini sono in corso. Tutto questo accade a pochi giorni dal primo termine per l'iscrizione in serie D, fissato per il prossimo 13 di luglio. La Iesina in questo momento rischia abbastanza, ma è possibile che anche altre società, per motivi diversi da quelli della Iesina, possano abdicare all'ultimo minuto.